Per prima di iniziare il video, ti ricordo di premere il tasto iscriviti e lasciare un mi piace, grazie. In una lunga intervista rilasciata al settimanale Chi, Giorgia Meloni ha parlato anche del suo rapporto con Andrea Giambruno, l'ex compagno, e ha rotto il silenzio sulla figlia Ginevra. Sul rapporto su Giambruno, la premier Meloni ha detto «Quando con Andrea ci siamo separati non è stato facile neanche per lei, ovviamente». «È legatissima a entrambi. Con noi a lungo ha fatto finta di nulla, ma io so che piangeva quando non la vedevamo. Mi ha fatto venire il cuore come una nocciolina. Fortunatamente, io e Andrea, che rimane il padre migliore che potessi desiderare per mia figlia, abbiamo mantenuto un buon rapporto. Quando possiamo, passiamo del tempo insieme con Ginevra. Penso sia importante far capire ai bambini che una separazione non debba scatenare per forza un conflitto tra i genitori e che i figli non debbano essere costretti a scegliere tra mamma e papà. Non è sempre facile, mi rendo conto, ma quando è possibile è utile farlo». Grazie. Grazie.